Siamo scesi in piazza perché tutta la cittadinanza, il popolo sta insorgendo perché questo governo non ci rappresenta più. Non ce la facciamo più, siamo allo stremo. Tutte le categorie, il lattaio, l'idraulico, i disoccupati, i cassi integrati, tutte queste categorie sono allo stremo. Noi non vogliamo più questo governo, vogliamo che se ne vadano a casa, vogliamo liberare il Parlamento e vogliamo ritornare ad avere un paese normale. Ci sono i disoccupati, i cassi integrati che non ricevono la cassa inderoga da giugno, ci sono delle persone che sono portate allo stremo, non ce la fanno più, noi non ce la facciamo più. Dobbiamo portare da mangiare a casa e ci stanno togliendo anche la dignità di portare avanti la famiglia. Iniziamo a dire che noi siamo 9 dicembre, Movimento 9 dicembre a Genova e questo è importante perché le infiltrazioni ce le abbiamo tutti i giorni grazie ai giornali che stanno dando delle informazioni errate. Noi abbiamo la pagina su Facebook che si chiama Coordinamento 9 dicembre a Genova dove lì potete raccogliere tutte le informazioni e vedete in modo trasparente tutte le nostre attività che abbiamo fatto da quando ci siamo incontrati. Si è creato un gruppo di persone che non ci conoscevamo, non sapevamo niente e ancora oggi che abbiamo trovato delle amicizie forti, dei legami, perché tutti quanti siamo qua in piazza, abbiamo lavorato, fatto chilometri a piedi per cercare di portare il messaggio con i volantini e con altro. È nato un gruppo, un gruppo importante, questa è una bella cosa e siamo qua per tutti perché noi non siamo politici, non siamo abituati a fare dei discorsi, quindi non prendete tutto quello che diciamo, mettete i puntini sulle i perché non siamo dei politici, ripeto, siamo gente come voi. Grazie a tutti.